Negli ultimi giorni si sono verificati due fatti che sono molto diversi tra di loro eppure legati e specchio di una sorprendente assenza delle istituzioni sul nostro territorio. Il Comune di Viareggio nel novembre 2014 ha tagliato il numero verde al centro antiviolenza della Casa delle Donne a Viareggio che era stato attivato nel 2001. Questo numero verde è stato ripristinato soltanto pochi giorni fa e grazie a finanziatori privati. Il 5 aprile il vescovo di Luca Italo Castellani informa che la Caritas ha censito nella nostra provincia 1.435 nuclei familiari pari a circa 4.000 persone che non hanno cibo a sufficienza da mangiare e invita i cattolici quando vanno a messa a portarsi dietro un pacco di pasta per depositarlo nell'apposita cesta collocata in tutte le chiese. E allora viene spontanea una domanda. Da che parte guardano le istituzioni a fronte di sofferenze così forti e diffuse sul nostro territorio? Quelle telefoni a strada vita deve avere squillato a lungo e in vano, a vuoto, per mesi. Mentre grazie a persone di buona volontà si è in qualche modo alleviato la terribile pena della mancanza di cibo. Insomma, uno sguardo solidale non viene dall'alto.